Povera Andromeda, figlia dei re dell'Etiopia. La donna doveva pagare per le colpe di altri e pertanto venne condannata ad essere divorata da un mostro marino. Legata ad una roccia stava per morire. Fu Perseo con i suoi sandali alati a liberarla e da quel momento in poi nacque un grande amore. D'altronde Eros, su questa ceramica del 340 a.C., non sta lì per caso. Un'unione che seppe sconfiggere il male e conquistare l'eternità, ma anche un piccolo pezzo di cielo, dove ancora oggi le costellazioni di Perseo e Andromeda fanno scintillare il ricordo di questo grande amore.